Il GUP Mariella Fino ha rinviato a giudizio Franco Birolo, il 49enne tabaccaio di Civedi Correzzola che la notte tra il 25 e il 26 aprile del 2012 aveva ucciso il 23enne moldavo Igor Ursu mentre assieme a due complici stavano razziando il suo negozio. A chiedere il processo nei confronti del tabaccaio è stato il pubblico ministero Benedetto Roberti che a Birolo contesta il reato di eccesso colposo di legittima difesa. Secondo la perizia balistica usata dalla procura il colpo mortale esploso all'interno del negozio era stato sparato da una distanza compresa tra i 50 e i 150 centimetri. Ho visto un'ombra che dietro di me stava scavalcando il bancone e me la sono trovata quasi addosso. È lì che ho sparato, ero vicinissimo, raccontò Birolo poco dopo i fatti. Igor Ursu morì sul posto sulla piazza di Civedi Correzzola proprio di fronte alla tabaccheria. Grazie a tutti.